H&M Home offre un'ampia gamma di piante da vaso, ideali per dar vita alle tue stanze. Tra le opzioni disponibili ci sono l'Aloe Vera, la Kentia, l'Alocasia Odora, il Ficus Ginseng e il Senecio Radicans. L'Aloe Vera è facile da coltivare in appartamento e può migliorare la qualità dell'aria. H&M Home la vende al prezzo di 27,99 per un set di due piante da 10,5 cimilitri di diametro. La Kentia, disponibile al prezzo di 41,99 è perfetta per il salotto. Originaria dell'Australia la pianta richiede poca manutenzione. Nel prezzo è incluso un vaso di 18 cilinimetri. L'Alocasia Odora, con le sue foglie a forma di orecchie ed elefante, è in vendita a 36,99 e può raggiungere i 250 cilinimetri di altezza. Il Ficus Ginseng e il Senecio Radicans invece sono disponibili rispettivamente a 39,99 e 29,99.